Ciao amici e amiche, come tutti i mesi, mese di settembre 2022, Marco Drums Games, PlayStation Plus, Premium, Extra e Essential. Allora andiamo a vedere i tre giochi mensili del Plus. Allora, questo mese c'è Need for Speed Hit, Hot, vabbè, EAT, H EAT. Bellissimo, io l'avevo già da parecchio tempo, è molto bello, divertente, ed è il Need for Speed, si fanno cose veramente fighe, 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 eccolo qua. Poi c'è altri due giochi interessanti, uno è questo qui, Granblue Fantasy Versus, un gioco che sinceramente non ne avevo mai provato, ma sembra interessante, 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 andremo a provarlo e lo porterò in live, no, 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 nei video qua su YouTube. Ok, poi il terzo gioco è Toem, un'avventura fotografica, è un gioco fatto così. A volte questi giochi, amici miei, sembrano stupidi, però a volte sono veramente fatti bene, quindi vi raccomando di iscrivervi al PlayStation Plus Essential, che avete i giochi mensili, i sconti, i pacchetti, molti giocatori online, assistenza per giochi, memoria e archiviazione included e share play. Se invece volete E-Plus Collection, che sono i tre giochi che vi ho presentato oggi, se avete qualcosa di più, volete qualcosa di più, con 20-30 euro al mese, in più, all'anno, scusate, 20-30 euro al mese, e di 30 euro all'anno, avete nell'extra, compreso nel PlayStation Plus Extra, l'Ubisoft Classic più il catalogo di giochi, e invece sui 119 euro, se non sbaglio, comunque dopo andremo a vedere i prezzi, avete il premium, streaming dei giochi, catalogo dei classici, versioni di prova dei giochi e sto mese metteranno due giochi solo per gli abbonati premium, un po' più fighi. Eccoli qua, i prezzi. sono... non so neanche se li... no, non ci sono i prezzi, vabbè, comunque i prezzi ve li andate a cercare. Ok ragazzi, quindi PlayStation Plus mese di settembre 2022 è tutto, ci vediamo al prossimo mese, come tutti i mesi, da Marco Drums Games Chatter, PlayStation 5, PlayStation Plus Sony. Ciao amici, alla prossima, mi raccomando di seguire il mio canale, iscrivervi qui su YouTube, commentate mi piace, iscrivervi anche su Twitch dove faccio le live, ore 21, tutti i giorni, ma anche su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch, e Discord. Lascio tutti i link in descrizione. Ciao amici, vi saluto anche l'aereo che passa sopra. Non so se lo sentite, ma è appena passato. Ciao amici e amiche, alla prossima, viteci!